Ciao doc, oggi vorrei che mi spiegassi per bene che cos'è l'analisi sensoriale, così poi da poterla applicare al mondo del gelato. Ok, ci provo. Partendo dal presupposto che il nostro organismo, essendo programmato per la sopravvivenza, ricerca da sempre le sostanze nutritive attraverso le preferenze alimentari. Il neonato è in grado, senza alcun apprendimento, di saper giudicare i gusti fondamentali. Adora lo zucchero, il sale gli va abbastanza bene, l'acido non è molto buono ma lo intriga e l'amaro lo evita. Sì, però noi adulti abbiamo un po' intellettualizzato il nostro gusto alimentare, non trovi? Nell'attuale società del benessere del mondo occidentale, l'abbondante disponibilità di cibo ricco di grassi e di carboidrati, ha spostato le scelte alimentari dalla sopravvivenza al puro piacere sensoriale e talvolta anche intellettuale, come giustamente hai detto tu. Queste scelte spesso coincidono con alimenti dall'alto contenuto calorico che in passato potevano essere poco accessibili. Però c'è da dire che fortunatamente nel campo alimentare si inizia ad intravedere un certo ritorno ad una maggiore considerazione verso prodotti più sani e che siano anche più appetibili. E il gelato artigianale? Anche il gelato, nonostante faccia parte della famiglia dei dessert, può essere considerato un alimento. Certo non è completamente sostitutivo di un pasto ma ci va molto vicino. C'è una crescente attenzione da parte di chi lo produce affinché possa elevarsi non solo a prodotto più sano ma addirittura anche gourmet. Quindi il gelato artigianale può essere degustato e analizzato proprio come si fa con il vino? Il gelato può essere degustato in modo scientifico. Esistono infatti già diversi studi di analisi sensoriale applicati all'ice cream industriale. Sul gelato artigianale invece non vi è mai stata uniformità o punti fermi che potessero stabilire una solida base sulla quale costruire un codice di degustazione del gelato che fosse anche condiviso. Certo è molto difficile stabilire dei parametri di riferimento per l'analisi sensoriale del gelato come succede per altri cibi poiché si tratta di un prodotto che si consuma a temperatura negativa, che ha una struttura molto instabile, che può essere composto da ingredienti processati e diversissimi fra di loro. Per questi motivi è stato necessario per me avvalermi della collaborazione di esperti di settore come i ricercatori professionisti dell'istituto del CNR Ibimet di Bologna e utilizzare le loro cabine di degustazione per fare i test e comprendere meglio i meccanismi dell'analisi sensoriale di un prodotto così complesso come il gelato artigianale. E come funziona questa analisi sensoriale? Ma è davvero una scienza? L'analisi sensoriale è una disciplina scientifica che cerca metodi oggettivi di valutazione affidabili ed esenti da errori di una vasta gamma di prodotti alimentari. In questa analisi naturalmente sono coinvolti tutti i cinque sensi, quindi vista, tatto, udito, olfatto e naturalmente gusto. L'analisi sensoriale è stata definita come un metodo scientifico usato per risvegliare, misurare, analizzare e interpretare quelle risposte ai prodotti che sono esito della percezione tramite i sensi della vista, dell'olfatto, dell'udito, del tatto e del gusto. Questa è la definizione ufficiale. Chi si occupa di analisi sensoriale in modo professionale ha una formazione che abbraccia discipline complesse come la psicofisica, la statistica, la fisiologia, la psicologia, la psicometria e non ultimo il marketing. Tutti o quasi possono essere in grado di degustare e descrivere più o meno dettagliatamente le sensazioni verbali delle proprie esperienze, senza necessariamente essere degli analisti. L'importante è che venga stabilito un metodo, che si conoscano dei parametri e che la degustazione sia concepita in modo tale da essere efficace e possibilmente scevra da errori. Mi sono un po' perso, bisogna che me la spieghi un po' bene perché il discorso non mi è molto chiaro. Ok, cerco di semplificare per farti capire come poter applicare questi metodi scientifici nella degustazione del gelato, del sorbetto e della granita. Intanto occorre dire che non è necessario chiudersi in un laboratorio di analisi per poter definire il profilo aromatico di un gelato o per identificarne le caratteristiche sensoriali e in ultima analisi la qualità. Bastano alcune regole di base, un po' di concentrazione e tanta pratica all'assaggio. Oggi molti gelatieri sono in grado di andare oltre la preparazione di semplici ricette di gelato standard. Ci sono grandi professionisti che si misurano con nuovi abbinamenti, studiano le consistenze, ricercano ingredienti di alta qualità e compongono delle vere e proprie opere d'arte estemporanee. Sì, ma la gente lo sa, intendo il pubblico si rende conto di quello che c'è dietro il lavoro di un professionista, il loro sacrificio. Oggi mi sembra che tutta la comunicazione legata al nostro settore sia fondamentalmente tutta uguale e che utilizzi lo stesso tipo di linguaggio, il pistacchio di bronte, la nocciola delle langhe, prodotti senza questo, senza quello. Hai perfettamente ragione. Come si fa a comunicare le scelte di eccellenza ai propri clienti quando la comunicazione in genere verte sempre sulle solite direttrici che sono uguali un po' per tutti? Eh, lo so, è quello che dico sempre. No, certo, penso che il cliente oggi debba essere coinvolto in modo anche molto più diretto. Fondamentalmente non ha tempo e voglia di leggere cartelli o messaggi che poi sono sempre tutti uguali in tutte le gelaterie. Diventa quindi necessario che tra i compiti del gelatiere che decide coscientemente di differenziarsi dallo standard ci sia quello di adottare delle metodologie più efficaci e innovative per trasmettere ai propri clienti le peculiarità delle proprie scelte, guidandoli e a volte anche istruendoli ad un assaggio più consapevole dei propri prodotti. E quindi come si dovrebbe fare nel concreto? Il marketing oggi ci insegna che dobbiamo interessare emotivamente il nostro cliente. Dobbiamo essere in grado di raccontargli la nostra storia, farlo appassionare ai nostri prodotti e al nostro brand, regalargli dei contenuti, dimostrando così la nostra competenza e professionalità. Informarlo su ciò che facciamo utilizzando sia i mezzi materiali che quelli immateriali, dai social media agli appuntamenti informativi direttamente in gelateria. Anche perché lo storytelling va promosso su tutti i livelli di comunicazione. Quindi non solo online. Lasciando un attimo da parte cosa si può fare online, una delle possibilità per poter alimentare il proprio storytelling è quella di organizzare degli incontri magari di degustazione ad invito oppure stabilire degli appuntamenti fissi in gelateria che possono essere anche informativi. Ciò non può che far comprendere meglio ai propri clienti come valutare la qualità di un prodotto gastronomico nazionale dalla lunga storia e dalle qualità eccezionali come il gelato e la granita, oltre ad essere chiaramente un ottimo mezzo per fidelizzare la clientela. Dì la verità, ti stai facendo la pubblicità al tour del mondo del gelato, eh? Beh, il tour del mondo del gelato è nato proprio per questo. Aiutare il gelatiere a coinvolgere la propria clientela di maggior valore nella promozione del proprio brand, attraverso l'analisi sensoriale e il riconoscimento dei parametri qualitativi del gelato. Un tassello in più per il gelatiere che può utilizzare nel proprio storytelling personale. Però questo è un evento che ripartirà nel 2021 in una formula rinnovata ma sempre molto coinvolgente per il cliente finale. Ottimo Doc, però la prossima volta bisogna che mi spieghi bene come si fa un'analisi sensoriale del gelato, quindi una degustazione proprio passo dopo passo. Ok? Certamente! Alla prossima allora!